Allora, come vi siete conosciute? Oh, siamo amiche dalla scuola. Sono sempre stata una grande lettrice. Cosa? Parla di me? Vuoi che ti autografi il libro? Oh, sì, ma certo. D'accordo. Vediamo. Quello è un vero lago? Sì, è in Irlanda, vicino alla casa della mia famiglia. Oh, vorrei vederlo. Deve essere incredibile. Io vorrei tanto che tu lo vedessi. Scrivi delle storie davvero stupende. Potrei ascoltarle tutta la notte. Oh, sarebbe fantastico. Sfortunatamente domattina ha una conferenza, quindi il conto grazie. Ma è un open bar. No, non lo è.